Chiuso il lungo capitolo Sant'Arcangelo, il direttore sportivo Oberdan Melini ritorna a Forlì dopo la sfortunata esperienza di metà anni 2000 quando militò in bianco rosso per appena un mese. Il compito è di riportare il Forlì tra i professionisti in un progetto biennale. La prima pietra è Melini-Oberdan. Io spero che possa partire da oggi un percorso che io vi dico adesso che quest'anno probabilmente sarà un anno di transizione, di consolidamento per poi abbiamo fatto un programma di due anni per cercare di il prossimo anno ritentare la scalata. Forlì per me ha rappresentato sempre un punto di arrivo. Spesso dicevo prima di appendere le classiche scarpette al chiodo, anche se io eventualmente avrei dovuto archiviare la penna su una scrivania, mi sarebbe sicuramente piaciuto almeno ritornare a Forlì, visto che le mie due breve e sfortunatissime esperienze, insomma che tra l'altro la seconda non la si può chiamare neanche così perché di fatto poi non partì nemmeno, mi erano rimaste molto indigeste e avevano comunque creato in me questa voglia di rivalsa che sperando che ci potesse essere stata una nuova occasione.